Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di due distinti interventi, ha sequestrato tra Napoli e Portici 180 kg di sigarette di contrabbando, arrestando due soggetti originari della provincia di Bari e denunciando a piede libero tre napoletani. In entrambi i casi, i finanzieri del gruppo di Nola, durante i controlli, hanno individuato delle autovetture, scoprendo diverse casse di sigarette di marca Malboro, LM e Regina. Durante la prima operazione, le fiamme gialle, insospettite da due auto che viaggiavano a breve distanza l'una dall'altra, sono riuscite a scoprire 150 kg di sigarette nascosti sotto il sedile del passeggero e su quelli posteriori, sotto un'infrastruttura telonata scura nel portabagagli e nel vano sottostante il bagagliaio che solitamente accoglie la ruota di scorta. La prima auto controllava che il percorso fosse libero da pattuglie delle forze dell'ordine, in modo da consentire alla seconda di trasportare in sicurezza il prezioso carico fino a destinazione. I finanzieri, dopo un pedinamento durato qualche chilometro, hanno intimato l'alta le due vetture, disvelando il sistema messo a punto dai due contrabbandieri che, per portare a termine lo scopo, si erano anche dotati di due cellulari da utilizzare esclusivamente per comunicare tra di loro. Durante la seconda operazione, inoltre, le stesse fiamme gialle, nel centro storico di Napoli, in Piazza del Gesù, hanno sorpreso tre pregiudicati mentre scaricavano 30 kg di sigarette di contrabbando da un'autovettura.